La combo è, umano di primo, incubation druid di secondo, 6 mana di terzo, subito, immediatamente. Vediamo. Purei! Beh raga, stiamo esagerando. Timur con Genesis Ultimatum, sì ma comunque la roba cicciona ci serve, poi con Ultimatum cosa prendi? Le terre. Eh. Ok. Vediamo il tipo Ugi cosa fa. E adesso ci ha fatto il push grosso nella mia testa. Allora andiamo aggro. Aggressivo! Vecchio! No è rogues. Attenzione, ottimo elfo. Pucci. Hmm. No, la combo va bella Mi sta a menà Però ce l'abbiamo la grossa possibilità di vincere qui Però questo Duterte già mi countera anche Criston L'altro Qumano ha anche sinergia con Beast che la fa scendere S6 Ed è subito addirittura di rigging Beast Bella, peace Io sto sperando che un turno si tappi ma non credo succederà mai, vero? Ciao Differente Con pezzo si è tappato, tra virgolette Terza Allora, devo parare quindi ho perso guarda Rogues Va bene Va bene così La prima è dei bimbi La prima is for kids Come si dice a Livorno La prima è dei bimbi La prima è dei bimbi Vediamo il nostro Brur Costa Cosa ci dà Cosa ci dona Attenzione C'è grosso mana qui Porco Dio E dai Perché trovo sta gente sempre quando decido di provare qualcosa di nuovo che magari finisce su YouTube Castello verde ce lo potrei mettere effettivamente Perché non trovo questa gente quando sono in ladder Che devo fare una vittoria? No, li trovo quando non mi interessa vincere né perdere, solo provare effettivamente le cose Signore Meodeus Cino Dio Cino Dio Cino Dio Bello Deci pens Giochiamo con il fungo che cammina An eternity later Cino Dio Perché ha fatto il classico Nel frattempo signori della chat Vi ricordo che potete iscrivervi a questo canale con Prime Gratuitamente Punto schiamativo Prime Tutte le cose Magari che se questa cosa veramente va su YouTube Potete mettere like, commentare Venire a trovarci anche nel server della club a Viola Link in descrizione per il canale dal vivo E Oh Ha giocato una figurina incredibile Che è pazzesca questa cosa Se ci pensi, incredibile Victory Shock Perché play with fire È troppo borghese Stom 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 Biosi Stiamo a tre mana Canis Deus Ok Canis Deus Gloria Gloria Guida In the song Of victory Grulburn con Clotis Ti prego Ciao chiudi Signora Clotis Madonna La lentezza Di Persona E ci voleva tanto A fuck terra quest In vista Jesus Voleva così tanto A fare quell'attacca Cristo Ok Capisco se Sta giocando tipo Da cellulare In Nicaragua Cosa potrebbe essere Effettivamente Non attacco Aspettavo di dire Cosa veniva Ora faccio Sand Tocca a lei Tocca a lei ci sono da 4 minuti con un Indus Combo che farma solo punti vita concedi? la tua vita vale più di quella del tuo opponente il tempo nel senso signore di Twitch ovviamente sto dicendo non perdere tempo come perde tempo la gente iniziato da pochissimo con il deck che ti avevo consigliato oggi cosa faccio su YouTube intanto le missioni giornaliere puoi iniziare volendo quando ti rendi conto che lo giochi piuttosto bene inizi a vincerle tante puoi iniziare a fare gli eventi standard costruito standard best of one alla meglio di uno ovviamente e gli giriamo un po' di figo qui un po' di figo qua vabbè non attacco con Enzo attacco solo con Enzo faccio una bestia comunque alla fine è un grullo normalissimo quello che ha deciso di giocare Shock bene l'elfo me lo tengo semmai mi spara il pippolo fa qualcosa sono messi piuttosto bene contro grullo understanding through demanding there's no name there's one for every season dai 5 mano a nulla dio cristo d'acqua nel cervello non so veramente sto uscendo bisogna dormire probabilmente ok hai flippato Poclotis bravo attacchi mi fai un cazzo pippoli pippoli ci sta che perda un gargaroth adesso ce ne frega assolutamente niente e blocca qualcosa esatto ok bloccavo tutto tutto a posto meglio di quanto mi aspettassi ti dico la verità body sta a lei shame on Kampa Kampa grazie per il secondo mese di Prime la conferma grull botte grosse assolutamente bella carta il gargarozzo il gargarozzo è è best carta del mondo ok posto il gargarotto vince le partite in explorer ragazzi poco da dire poco da dire aspettiamo il server abbiamo già aspettato il nostro avversario abbastanza quindi aspettiamo anche il server ok questa è andata meglio della prima partita aspettiamo questa che artwork è derive tears vero è qualcosa derive tears non ricordo male anche in pain fa piangere i fenici beh sì speriamo di non trovarlo all'event al ptq perché gioco monored eeeh vabbè tengo gli eventi quanto va in pari a 5 a 4 tecnicamente anzi a 4 c'hai guadagnato 5 prendi 5 6 strasopra che te devi dare una bustina a vostra 200 gemme oh cristo un'altra io non ce la faccio più io trovo questa gente solo quando registro o faccio un mazzo nuovo per youtube è incredibile e ti ripaghi il prossimo ah no ok allora che ci vai subito che riprendi le stesse gemme a 5 sì ma non funziona così non è quello andarci in pare già adesso esplode uh c'ho la conna boh no tranquillo tranquillo not a man anymore ah tecnicamente devo fare purtroppo druido così sperando di pescare terra devo fare al contrario purtroppo sperando di fare terra per fare gargano 8 8 7 7 8 3 8 8 8 8 8 8 abbiamo il cr ok 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 mettiamo giggioni Questo secondo turno dovrei riuscire ad attivare rigging Morto non sono Che è il turno no brutto Era meglio gargaroth rigging attivo Fidati Era molto meglio gargaroth rigging attivo Il nostro avversario gioca uno dei maggi più antipatici del mondo ed è anche lento in culo Vabbè arriverà il giorno in cui andrà tutto bene durante un video Vabbè se concedi sono contento ti devo portare una sega guarda sei un angeli del cazzo Ma cos'è angeli barra life gain Ma fai Fai angeli selesnia normale Sai in keeper perché Cosa serve Ok sta giufega Oddio Fammi pensare Ma no ma il server No è anche oppo che è lento Finito il time up Il prossimo ha perso È clerics Non è angeli Però c'ha questo Il nostro avversario piace soffermarsi sulle fasi O può essere Magari Non ci vedo niente Ma Uh certo che però doppio giant qui Questa è arena Me la sto prendendo inutilmente con arena Ma non è arena Ma voglio dire Vivo in un mondo dove nemmeno la mia ragazza è sabbata al mio canale Grazie Ah no è lui che mi tiene il fa È lui che mi sta bloccando È questo tesoro che mi sta No è lui È lui No amore T'hai scluso al prime Sboring clicks fortino Oh Abbiamo fatto un turno Senza nemmeno vedere cosa facevo Ha deciso basta Perché è lento come la merda Ma veloce al concede Bene ci piacciono Sì era in full control Mi sa E anche il tesoro tiene le fasi Il tesoro tiene la priorità Anche se non hai niente da farci Puoi saccare tesoro a caso Quindi Let's go Compietare il quest È il miglior modo per ottenere gold Mastery pass Mastery orbs È la verità Fate tutti i giorni le vostre giornaliere Tutti i giorni fate la cacca Lavate i videnti E fate le giornaliere È tutto così lento oggi Perché probabilmente Sennò io devo essere più zen No furia Kingsetto Inso Silvia Un anno di felicità Pipi e Magic Faccina con cuoricini Eccola là Auguri amore Un anno di iscrizione Ho fatto prima un anno di sub Che un anno di relazione Let's go Questa partita potrebbe andare molto bene Un anno di Pipi e Magic Sì esatto Eh vabbè ma questo c'ho il nulla Vabbè Sempre zimbiosi vogliamo vave Sono un dwarf e scavo nella buca Scavo nella buca Scavo nella buca Questo è venuto col mazzo limited di Midnight Hunt Io ovvero Oggi è la giornata mondiale del sonno È vero Sonnissimo anch'io Vabbè Vabbè dai posso triggera subito Let's go Turno 4 eh Vabbè Boom No la gioca Bravo Bravo La gioca La sente un casino Infatti effettivamente 12 ore in due giorni è abbastanza È scattato mercoledì No è mercoledì È scattato il weekend Shikeri 13 designer con un'unica mission Reinventare lo spremiagumi No è mercoledì È scattato il weekend Lo sono ritirato fuori I capolavori Quelli belli È mercoledì È scattato il weekend Gesù Cristo Gandhi Little Levi Montalcini Figure stoiche Importanti Con una cosa in comune Il sandalo No era mercoledì Era mai dire mercoledì Mi sa O addirittura Nacque era mai dire Grande fratello No era mai dire tv E c'era il mercoledì sera A Milano stanno proponendo La settimana corta Ma pagano uguale? Era sempre mai dire Sì Io me la sento di facco Mario Che se pesco il druid Quando faceva Crignani Era bellissimo Mi occupo io Della figa E cose vuoi Che ti dica Comporrò Sinfoni Madrigali Per passere Surreali Pagaguale Cazzo Bello Ma Che Che in giovedì Che è Ma che da lunedì a giovedì Fai 40 ore Oddio Preferisco Lavorare 8 ore al giorno Per 5 giorni O 10 ore al giorno Per 4 giorni E farmi 3 giorni Di festa Sondaggio Maffi Mi fai il sondaggio Vabbè grazie Anch'io Anche a me piacerebbe Essere un ricco Ereditiero Di immobili Che senza fare un cazzo Guadagna 7000 euro Al mese di affitti Ma Non è il caso Quindi Scegliamo Preferiamo Se uno Dice Devo lavorare 40 ore a settimana Ok Come preferisco 4 per 10 O 5 per 8 Ovviamente un lavoro Dove una volta uscito Basta Fine Ciao Non ti caga nessuno Non sei reperibile Nulla Forse io scegliere 4 per 10 Sapete Vabbè Questa l'abbiamo persa Perché non abbiamo il Mario Vabbè Tengo dai Sono tante 10 al lavoro Eh Passano male Eh Per un lavoro Proprio ti piace Tanto tanto Vabbè Davanti al pc Grazie al cazzo Vabbè Non è il caso Ragazzi Cioè davanti al pc Giocando Ovvio Streamer Si fa l'orario E cazzo vuole Io faccio 12 ore Non me ne raccordo neanche Non è vero Si guardano in faccia Però Boia Facevi 6 Facevi 60 ore Settimanali Minchia Minchia Beh Sfruttamento È illegale Nei paesi Dove Non sono tutti Testa bassa Lavoro 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 Hai rotto il cazzo Vabbè Non si è giocato a magic Questa partita Vabbè Navi tanto Sì ma non è vita Mi dicessero Lavori 10 ore al giorno Per 6 giorni a settimana Tutta la vita Ma guadagni 6 miliardi al mese No 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 Oddio Però poi dopo un anno Vai Campi di rendita Per sempre No 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 Troppo pesante Vi propongo un altro Indovinello Se vi dicessero Lavori per un anno Ma non un anno Con le ferie I giorni di ferie Un anno Un anno Ragazzi è dura Guardate tutti Spavaldi Subito Subito Proprio voglio vedere Dopo 3 mesi Dopo 2 mesi A parlare con Wilson Eeeh Bimbi E' dura Beh Borin Clexon Mi sembra male Senza lavoro Senza lavoro Senza lavoro E' un esperimento Perché magari ci stiamo mettendo Anche il componente Lavorare E' un esperimento Servito Il riverito Di cibo E acqua Un anno All'interno Di una stanza Senza intrattenimento Solo cibo E sostentamento Fondamentalmente E poi sapete Che da lì in poi Non Non lavorerete mai più Per tutta la vita Perché sarete ricchi sfondati Senza fare nient'altro Ok Meglio lavorare Ok Sono d'accordo Sono assolutamente d'accordo No Il cazzo In galera Il galera E' una pacchia Dito La galera Eeeh Ci sono delle galere E sono un paradiso Non sto scherzando Ci sono delle galere Veramente Palestra Biblioteca Tc laurei Tc laurei Ora in galera Di che cazzo Stiamo parlando Nel frattempo Stravinta Stravinta Distrutto Questa era la partita Perfetta Che volevo far vedere E' un ganso Queste cose Queste ipotesi Questi studi La videotrap Sì esatto Non è un meme Già C'è chi l'ha fatto Comunque davvero Ora in galera Se non hai fatto Qualche reato Veramente grave Che ti mettono In isolamento Peso In galera C'hai la sanza O la televisione La mensa La palestra La biblioteca Dove studiare I corsi universitari E Fui Fuori A gio A pallone Fuori A basket Quasi divertente Voglio dire No raga Ovvio Ti dico Se ci sei andato Perché hai rubato Una borsa Se sei un assassino È una merda Interessante Interessante Equipo Preferiresti Un calcio Fortissimo In pancia O 100 milioni Di euro Subito 100 milioni Di euro No Il telefono È l'unica cosa Non puoi avere Il telefono È connessione Internet Ma forse Hai tot Internet Al giorno No Ma poi È lì Che si organizzano Mafiosi No No Non puoi avere Internet Il pene Completo Di scroto In fronte O due ani Puzzolenti Sul palmi Delle mani Il pene Completo In fronte Col pene Completo In fronte Puoi Effettivamente Fare Delle 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 Cose Anche Molto Buffe Che potrebbero Farti fare Molti soldi Nel mondo Dell'intrattenimento Online Che potresti Farli anche Con gli ani Sulle mani Però è molto Più bello Essere un unicorno Col pipì Un pipìcorno Esatto Meglio Meglio un arno Con 10 ore Al giorno di lavoro Un mese Nella stessa Scanza Con crockets Un mese Nella stanza Con crockets Mi divertirei Tantissimo Persona Simpaticissima Grande Stipenone Poi devi girare Sempre con il cappello Sì ma Quando poi Te lo togli Tutti fanno Wow Wow Un pisano all'uscio Fra Un pisano all'uscio Il meme è morto Mille anni fa Per me In Toscana Siamo tutti fratelli Tranne No Già Già Stavo rompendo Il discorso Siamo tutti fratelli Rischio E ho fatto bene Il clima della Scozia fa cagare Vero, ma la Scozia è bella Il clima della Scozia Non fa nulla C'è Varing Clicks 3, 2, 1 Boom No, ah no, ok Sta subendo la figura di merda senza fare nulla Bravo Bravissimo No, ora concede Eh, ora concede Cazzotti mille, cos'è il supplier? Ah, è pariglio Fa male È Grisfa È vero? Sì, sì Eh, ma settimilli Grisfa? Cosa succede secondo te? Dei sassi Cioè, ha messo dei bellissimi tappeti Con quelle Fable Oi, 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 lods Ma Butcher Di The Boys È scozzese Perché dice Oi, oi Quando entra nelle stanze È vinto Ah, vabbè È imbattibile Fortissimo sto mazzo Bello Bello davvero Iscrivviî Iscrivì C Core Ca Di Vi Grazie.